Il Gran Gala dell'Olio, l'Oro d'Italia e del Mediterraneo torna nella città fanese nelle date del 22-23 aprile con un weekend ricco di profumi ed eccellenze dedicati all'olio ricavato dalle olive e ovviamente ai suoi interpreti principali, gli olivicoltori e i frantoiani. Dopo il successo dello scorso anno si riconferma la riuscitissima mostra a mercato Expolia, il salotto del gusto nella splendida cornice del Pincio dove 25 produttori del nostro territorio e oltre esporranno le migliori qualità d'olio e i prodotti tipici locali. È la quarta edizione qui a Fano, qui si svolge a Fano, altrimenti è la quindicesima edizione del Gran Gala dell'Olio che prima svolgevamo in Puglia ma abbiamo voluto portarlo nella nostra città, alla manifestazione hanno partecipato i nostri concorsi, due concorsi nazionale e internazionale dell'Oro d'Italia e dell'Oro del Mediterraneo, oltre 400 oli, dei migliori oli d'Italia e del Mediterraneo che molti potranno degustare o potranno acquistare nella manifestazione Expolia, il salotto dell'olio che si terrà al Pincio, l'arco d'augusto, sabato 22 e domenica 23. L'inaugurazione della manifestazione sarà il mattino alle 10 di sabato, quindi invitiamo tutte le persone, tutti gli amanti di questo prodotto ad avvicinarsi a queste iniziative, cominciando da sabato mattina fino a domenica con la mostra di mercato e le premiazioni che si terranno sabato. Durante il pomeriggio di sabato 22 il tradizionale appuntamento con le premiazioni dei migliori oli alla Pinacoteca San Domenico. Quest'anno ad essere premiati anche produttori fuori Italia, tra cui Croazia e Turchia, che hanno partecipato al concorso. Quest'anno troviamo ancora qualità nonostante un'annata sfavorevole che ha ridotto il quantitativo totale degli oli prodotti in Italia. Noi a Fano vedremo ancora arrivare per la premiazione dei nostri concorsi produttori da tutta Italia e anche da stati esteri. La qualità dell'olio è una cosa ancora sconosciuta ai più. Quelli che noi premiamo sono l'apice della produzione di una piramide che vede una base fatta di extravergini con qualità comuni, ma poi l'olio può esprimere sapori e aromi tali da poter migliorare tutti i piatti in cui questi prodotti possano essere aggiunti. Dunque due giornate che animeranno il centro storico di Fano tra le eccellenze di questo prodotto dalle molteplici proprietà organolettiche, salutistiche e culinarie. Chi vorrà avrà la possibilità di acquistare, di assaggiare i migliori oli da tutta Italia. Ecco un progetto che segue la strategia di valorizzazione della gastronomia e delle nostre eccellenze perché crediamo effettivamente che anche con questi eventi si possa creare una promozione vera del nostro territorio.